bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi siamo qua su WODEN perchè? perchè sei qua su WODEN anche oggi? è uscito un nuovo promo code? si certo e cosa ci dà? lo faccio saperlo io beh ragazzi è vero è uscito un nuovissimo promo code che vi darà un bel po di roba asciugoso bella interessante carte gratis oro gratis gemme cosa? gemme gratis gemme gratis ragazzi allora lasciamo la parola alla pamina che vi spiega dove andare vai su un livello in alto a sinistra esatto codice promozionale ragazzi ma prima di farlo ragazzi mi raccomando lasciate un bel like per questo video voglio vedere quanti riuscite a lasciarcene ce ne lascia più di 100? no non ce la fanno ah perchè sono dei buffo un bel like ragazzi per il video mi raccomando di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto andiamo inserirlo andiamo inserirlo va via 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 89 va via via 89 babbiona sciamanna arrivano ragazzi 50 spinoni no spinoni 50 spinoso 100 di gold e 10 gemmine va bene dai non è tantissimo ma è sempre meglio che niente e ragazzi direi che per adesso noi ci vediamo alla prossima e quindi ciao ciao ciao